Il potenziamento della medicina territoriale di cui si parla ormai da un anno che è il punto debole anche della sanità marchigiana è da tenere in considerazione, lo dicono i sindacati Cigelle e Cislewil alla Regione. Vediamo il servizio. È fondamentale poter attivare al più presto un confronto con la Regione che finora non c'è stato, quindi a nove mesi dalle elezioni, quindi a otto dall'insediamento della nuova Giunta, noi non abbiamo ancora avuto nessuna vera interlocuzione con questa Giunta sul tema della sanità. Sono pronti a scendere in piazza i sindacati Cigelle e Cislewil se la Regione non si mostrerà disponibile al confronto sul futuro della sanità marchigiana. Tanti, secondo le tre sigle, i punti deboli del sistema messi in evidenza dalla pandemia ma cronici, primo fra tutti la medicina territoriale. Bisogna certo puntare alla qualificazione dell'assistenza ospedaliera ma tanto più invece inrobustire i servizi del territorio e la prevenzione. Nella logica molto particolare per la nostra Regione di mettere in mano anche il superamento degli scudibili da territori. Case della salute, ospedali di comunità, cure domiciliari e strutture residenziali, punti chiave su cui Cigelle e Cislewil regionali chiedono una discussione in vista degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E poi la prevenzione, siamo al diciassettesimo posto tra le regioni italiane a livello di spesa, sottolinea la segretaria della CGL, Daniela Barbaresi, da ripensare, secondo i sindacati, anche il rapporto con il privato accreditato. Vorremmo chiarezza e vorremmo che per quello che riguarda il personale il personale fosse trattato alla stessa maniera mentre noi sappiamo che nel privato convenzionato non è assolutamente così. Noi non siamo contro il privato convenzionato però vorremmo stesse regole e soprattutto una definizione della struttura. Grazie. Grazie. Grazie.